Ci vorranno almeno altri cinque giorni per arrivare in una decisione sul rinvio a giudizio chiesto il 23 ottobre scorso dai PM Alfano e Valente della Procura di Salerno per il primo cittadino De Luca e per altre 22 persone, tra tecnici, funzionari, amministratori ed imprenditori, nell'ambito del procedimento relativo a presunti abusi sulla questione crescent. Non è bastata l'udienza di venerdì scorso davanti al GUP per ascoltare tutti i difensori, 18 avvocati per 23 indagati. Tempi lunghi che hanno costretto il giudice Sergio De Luca già l'altro ieri ad aggiornare l'udienza, inizialmente soltanto al 7 novembre, poi aggiungendo anche la giornata di lunedì. Domani quindi tutti si ritroveranno al secondo piano del Tribunale di Salerno nell'Aula 219 della Corte d'Assise d'Appello per proseguire la discussione, in attesa di una decisione che invece potrebbe arrivare venerdì 7 novembre. Il giudice dovrà valutare le difese dei legali, ad iniziare da quella del primo cittadino che ha sottolineato l'assenza di lecidi sui rapporti tra amministrazione e demanio e sulla limpidezza dell'operato del sindaco. Tutto comunque rinviato a venerdì prossimo, un 7 novembre quindi particolare per il sindaco di Salerno, diviso tra l'accensione delle luci d'artista e l'attesa per un possibile rinvio a giudizio. Differente invece la questione per uno degli imprenditori coinvolti, Aldo Reinone, che ha chiesto tramite i suoi legali il rito abbreviato, volendo dimostrare prima possibile la sua estranetà ai fatti contestati. La sua posizione quindi è stata stralciata e sarà affrontata a gennaio, vivendo un percorso processuale a sé stante.